Bentornato! Ti sei mai sentito stanco, triste, demotivato? Quei periodi in cui vedi tutto nero e ti senti carico di negatività? Nel video di oggi voglio spiegarti delle strategie utili per allontanare la negatività. Ciao e bentornato nel mio canale. Se non mi conosci, io sono Angelo e in questo canale ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale. Qui cerco di aiutare le persone a superare i momenti di difficoltà grazie a piccole strategie psicologiche. Se ti interessa crescere e migliorarti, devi assolutamente iscriverti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche, così sarai avvisato ad ogni nuovo video. Oggi ti parlo di negatività, o meglio, cerco di spiegarti come allontanare le negatività. Con negatività intendo quel senso di pesantezza, di apatia, quella tendenza a vedere tutto negativo intorno a noi. È un'esperienza che tutti noi abbiamo vissuto. È come se alcune volte ci trovassimo intrappolati in una nuvola scura. Ogni cosa che facciamo, i pensieri che abbiamo, le emozioni che viviamo sono connotate da strane tonalità scure. Ci sentiamo proprio carichi di negatività. Fortunatamente possiamo liberarci di queste negatività attraverso piccole ma potenti strategie. E entriamo subito nel vivo. La prima strategia è rinnova la tua stanza. L'ambiente in cui viviamo dice tantissimo di noi. In un video passato ti ho spiegato come riordinare una stanza aiuti a rinnovare la vita. Se hai perso il video ti lo lascio giù in descrizione. Se vuoi allontanare da te le negatività, porta aria nuova nella tua casa o nella tua stanza. Cambia la disposizione dei mobili, dipingi le pareti di nuovi colori, appendi al muro foto che ti piacciono o poster motivazionali. Dai spazio alla creatività. La stanza e la casa sono luoghi personali, intimi ed è fondamentale che noi riusciamo a trarre energia positiva da essi. Circa di disporre dentro casa degli oggetti che ti trasmettono positività o bei ricordi in maniera tale che anche nei momenti di tristezza, vivendo in un ambiente positivo, potrai ricaricare le tue batterie. Il fatto poi di esprimere la tua creatività, metterà in circolo nuova energia positiva. La seconda strategia è bevi e muoviti. Il 75% del nostro corpo è composto da acqua. Purtroppo, troppo spesso sottovalutiamo l'importanza della disidratazione. Sottovalutiamo le conseguenze del non bere abbastanza. La nostra mente è fortemente influenzata dal nostro stato fisico. Se noi mettiamo il nostro corpo in uno stato di sofferenza, è normale che anche la nostra mente ne subisca le conseguenze. Quindi prendi l'abitudine di bere con regolarità durante la giornata. Fortunatamente mi capita sempre più spesso di trovare persone che vanno in giro con delle borracce. Credo che sia un'abitudine salutare ottima. Così possiamo sosseggiare la nostra bevanda preferita durante tutto l'arco della giornata. Evita di fare delle abbuffate d'acqua in alcuni momenti e di non bere nulla per tantissime ore successive. Una buona idratazione si mantiene bevendo acqua costantemente durante l'arco della giornata. La seconda cosa che voglio è di muoverti, muovendo e rimetti in moto energie nel tuo corpo. Energia che c'è ma che purtroppo spesso rimane sopita. Non dico di fare sport agonistici oppure sport estremi, ma anche delle semplici passeggiate quotidiane possono avere dei grandi effetti sulla tua salute mentale. Ti ho parlato degli effetti dell'attività fisica sullo stress e la depressione in altri video. Se ti interessa approfondire te li lascio giù in descrizione. Un altro suggerimento che voglio darti per allontanare le negatività è osservare il tramonto o l'alba. Credo che questi due momenti della giornata siano carichi di magia. I colori del cielo, i colori del sole trasmettono quelle emozioni che spesso noi sottovalutiamo, quell'energia vitale di cui spesso non siamo consapevoli. Apprezzare la bellezza di quei momenti ci porta anche a rimanere ancorati nel presente e ci fa stringere un forte legame con la natura. Molto spesso infatti sottovalutiamo gli effetti benefici del contatto con la natura. Io credo che sfruttare questi due speciali momenti della giornata per ricaricarci di energie positive sia un'ottima strategia per lasciare andare le negatività. Sono due momenti magici. Vedere il sorgere del sole con le sue sfumature e vedere invece il suo tramonto con i suoi colori possono trasmetterci tanta tanta energia. Possono anche trasmetterci il senso di pace, di quiete e ci fa entrare in contatto col flusso continuo della vita giorno dopo giorno. Queste esperienze può aiutarci anche a trovare un significato più profondo alla vita e in generale alle nostre esperienze. Un'altra strategia che ti consiglio è quella di scrivere un diario. Purtroppo molte persone associano la scrittura del diario a un comportamento adolescenziale e infantile. In verità scrivere un diario è un gesto da adulti, è un gesto per prendere consapevolezza di sé. La sera mettere nero su bianco le nostre emozioni, i nostri pensieri, quello che abbiamo vissuto e come lo abbiamo vissuto può aiutare enormemente la nostra crescita personale. Leggere quello che stiamo scrivendo aumenta enormemente il nostro livello di consapevolezza. Mettere nero su bianco ci permette anche di osservare i problemi e le esperienze con maggiore distacco. Questo ci permette di conseguenza di affrontarli anche da altri punti di vista. Riuscire a mettere nero su bianco ha anche la conseguenza di scaricare ciò che abbiamo dentro. Riuscire ad appuntare i nostri pensieri, le nostre emozioni ha anche un effetto catartico. Mettendo giù i pensieri evitiamo di stare continuamente a rimuginare. In aggiunta il diario ha anche un altro effetto a lungo termine. Scrivendo come noi abbiamo reagito alle situazioni, come abbiamo affrontato le difficoltà, possiamo andare a riscoprire quelle strategie anche a distanza di tanto tempo. Il diario diventa una vera e propria mappa della nostra crescita personale. Un'altra strategia per eliminare la negatività è chiedere scusa. Per quanto ci possa far male ammetterlo anche noi possiamo nuocere e far male alle persone. Anche noi possiamo avere dei torti. È fondamentale se vogliamo liberare la nostra mente dalle negatività chiedere scusa per i torti che abbiamo commesso. È importante fare questo anche per insaldare le relazioni. Molte persone credono che chiedere scusa sia un modo per umiliarsi. Invece secondo me è un gesto di grande coraggio e maturità. Chiedere scusa significa ammettere a se stessi e all'altra persona che siamo esseri umani e di conseguenza possiamo sbagliare. La persona che ha difficoltà a chiedere scusa è colei che ha paura di ammettere la propria imperfezione. Questo significa non guardare la realtà della vita. Siamo esseri umani, siamo imperfetti, possiamo commettere errori ed è giusto chiedere scusa per ciò che facciamo. Chiedere scusa per un torto che abbiamo commesso può aiutarci a liberarci dal senso di colpa. È cosa più importante ancora? Creare relazioni salutare. Se chiediamo scusa diciamo all'altra persona che siamo in grado di riconoscere la nostra umanità e che ci teniamo alla relazione. Di conseguenza chiediamo scusa perché ci interessa continuare ad avere un rapporto con lei. E questo, come puoi ben immaginare, risalda enormemente le relazioni. L'ultimo suggerimento che voglio darti per allontanare le negatività è aiutare qualcuno. Gesti di gentilezza, gesti di cortesia, espressi in maniera gratuita, possono farci sentire utili. Possono aiutarci a ritrovare il nostro scopo profondo. Sapere di aver aiutato qualcuno, sapere di aver sostenuto qualcuno in un momento di difficoltà può aiutare enormemente la nostra autostima e la nostra atmosfera mentale. In video passati ti ho spiegato come creare un'atmosfera mentale positiva. Se hai perso il video lo trovi giù in descrizione. Aiutare qualcuno è una delle strategie fondamentali. Non significa fare grandi gesti ma aiutare qualcuno a portare la busta della spesa oppure aiutare la signora anziana ad attraversare la strada. Piccoli gesti gratuiti fatti a sconosciuti possono arricchire chi li riceve ma ancora di più chi li fa. Sentirti utile, sentire di aver fatto qualcosa per qualcuno allontanerà da te le negatività. Spero che questi suggerimenti possano esserti utili per allontanare le tue negatività. Fammi sapere nei commenti se hai delle tue strategie per allontanare le emozioni negative, i pensieri brutti e le negatività. Ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.